Lupi ancora attivi sul mercato, arriva un altro rinforzo in difesa, un under di valore, Lexi Zerni e Corigliano Calabro, Angelo Capuozzo. Il classe 2001 vanta già 45 presenze in D. Un buon bigliettino da visita sarà l'alter ego di Fabriani sulla corsia di destra, ma rappresenterà anche un'alternativa a Van Zan sulla Mancina. Intanto la squadra è concentratissima per l'esordio di domenica d'aprilia, il Campobasso vuole partire subito forte e punta all'intera posta in palio. Domani pomeriggio sgambatura in famiglia in terra laziale, Cudini conta di confermare l'undici che ha vinto e giocato alla grande contro l'audace Cerignola. L'unico dubbio riguarda il portiere e testa a testa tra Pica e Raccichini. Sabato la rifinitura al Romagnoli, poi la partenza per Aprilia. In campo il collaudato 4-3-3, dietro da destra a sinistra Van Zan, Dalmazzi, Menna e Fabriani. In mediana ha previsto il rientro di Brenci, tenuto precauzionalmente a riposo, contro i Pugliesi. Il play sarà assistito da Bontà e Candellori. In attacco il Baby Vitali, segnatevi questo nome perché ne sentirete parlare, Cogliati e Vittorio Esposito con Sforzini prima alternativa e pronto a conferire esperienza. Peso specifico e gol. Infine gli abbonamenti vanno a gonfie vele, nonostante le incognite legate al Covid-19.